Sì, sì, finalmente mi hanno ascoltato, sì, 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 l'hanno trovato, un bacio a te Stefano, non che hanno trovato la vittoria, hanno trovato Dabo, si era nascosto da qualche parte, l'hanno trovato e ha segnato, che vi avevo detto nell'ultimo video, dov'è Dabo? Probabilmente hanno visto il mio video, di sicuro, hanno visto il mio video e l'hanno trovato e ha segnato, grazie Pioli, grazie Brian, veramente quello che ci serveva, grazie, e soprattutto grazie a me ragazzi, ringraziatemi ovviamente nei commenti perché ho trovato Brian e quindi niente, quindi si è vinto, grazie a me, grazie, grazie, grazie. E finalmente si torna anche a vincere ragazzi dopo due mesi e mezzo, mamma mia poi che fatica, che fatica per vincere una benedetta partita del cazzo derby di Toscana di merda che poi c'è ragazzi da retta, ma l'Empoli è, oh, no, capiamoci, non serve contro la Roma e non serve la Juve, insomma, per dirne una, e la prossima settimana siamo contro il Milan, se si gioca così a Milano si fanno delle grandi figure di merda, oggi si è vinto di grazia perché la Font ha fatto una parata della Madonna e se lì si sa andata sui 2-2 io sono convinto o che si pareggiava o si perdeva o non si sarebbe mai vinto e che il Rabot fortunatamente l'è riuscita a chiuderla con un tiro che gli è venuto da, non si sa da dove, però meno male almeno lui sa tirare perché in questi ultimi tempi ragazzi non so quanta, quanta gente sa tirare in squadra perché ho visto soprattutto nella partita di oggi tra Chiesa, Simeone, Benassi, no, Miraglia, no, lui ha detto a tirare abbastanza, Gerson, delle ciofeche di tiri che forse tiravo meglio io, non voglio parlare del Gerson di Simeone, non mi va perché comunque diciamo che un po' lo posso capire, però dall'altra parte non si fanno queste cose perché comunque sei in una società, ti rispettano tutti, se ci sono le critiche vuol dire che c'è un motivo, è perché non segnavi da due mesi e mezzo e quindi ci stanno le critiche, ora se tu continuerai a segnare io, come tutta Firenze, puoi starne sicuro, saremo i primissimi a sostenerti e a continuare sempre a sostenerti e non a criticarti perché le critiche ci stanno bene fino a che ovviamente c'è un motivo per criticarti, però ovviamente adesso se tu continuerai a segnare costantemente, se tu continuerai a giocare bene, per me puoi anche non segnare ma giocare benissimo, mettere assist a destra e a marca per Chiesa e Miraglia per esempio, per farti un esempio, invece c'è il segnare ogni partita, però basta che tu giochi bene e non tu sprechi 57 palla davanti alla porta. Comunque oggi in generale ottima prestazione di tutta la squadra, ottima prestazione di Biraghi, sontuosa, oggi mi è piaciuto tantissimo, compreso anche l'assist per Simeone, la Fonte ha giocato molto bene oggi rispetto a come aveva giocato a Reggio Emilia che era un pochino vacillato sui tre gol e ci aveva un po' di colpe, oggi per l'appunto come ho detto ha salvato il risultato diciamo che ha salvato tre punti lui, ha giocato molto bene Miraglias, ragazzi che io veramente non so cosa dire, pensavo fosse un giocatore morto, un giocatore che era un brodo probabilmente, invece no, mi sono dovuto ricredere anch'io e bene, sono contento di aver trovato un giocatore così in squadra, da boh, grazie da boh, ti darò un bacio ogni volta che ti nomino e niente, in generale poi la difesa ha tenuto bene, Pezzella ha giocato abbastanza bene, Ceccherini non mi è dispiaciuto, non ha fatto niente di che ma non mi è dispiaciuto, Vito Rugo ha sbagliato una palla davanti alla porta che in quel momento avrei voluto strozzarlo, però per il resto ha giocato bene e quindi niente ragazzi, allora fatemi sapere ovviamente sotto nei commenti cosa ne pensate di questa partita, la prossima settimana abbiamo al Milan, secondo voi come potrebbe andare la partita, cioè fate, che ne so, se qualcuno vuole, io non lo faccio perché porta male, secondo me, poi se qualcuno vuole faccio un pronostico, magari mi piacerebbe capire anche, magari ovviamente motivandolo, cioè se uno dice perderemo 3-0, ok, spiega mai perché, anche se più o meno si può capire, quindi niente ragazzi, non c'è altro da dire sulla partita, se non bene che abbiamo ritrovato la vittoria, questi tre punti e possiamo riprendere il nostro cammino tranquillamente, speriamo tranquillamente, quindi niente ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!